Grazie. e cadere quanti giorni mi pianto la scuola che mi ha avuto quindi ci sarà un tempo io dico delle cose, voi sentitele facendo e poi se vi viene qualche cosa qualche dubbio, qualche informazione chiedetela facciamo così, alzi la mano chi di voi fa scienze motorie, alzi la mano chi di voi lavora con i bambini io ho romanzo a me il tempio e c'è scritto alcune cose qui, sono tante non credo che nessuno si riuscirà a soddisfare tutte le aspettative educare i bambini allo sport è una cosa che senz'altro so fare e mi piacerebbe abbastanza divertirsi abbastanza e poi generare attività a sopporti dell'attività tradizionale e cominciamo pronti? allora la prima cosa che vi chiedo è se potete vedetevi il gioco siccome siete in tanti e non ci riusciremo a fare questo tutti magari adesso il numero uno due e poi il piano prima il numero uno poi il numero due è chiaro? ci siamo ci siamo alzi solo la mano qui un po' l'attività un pochino uno due uno due uno due uno due due uno due uno due tutto chiaro? allora è chiaro là la patta la scuola uno due due questa è la patta non è l'attività il numero due Grazie. 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 Il rioe non è tempo, ma non è tempo che sono pronta dalla nuova. Ci sono proprio... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie. 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 Da. Da. Dada. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Quindi questa cosa fa, qualche volta il più umano per la nostra ricerca è il più importante. Allora io vi metto dentro il progetto del timeout, mettetevi d'accordo con voi il paio. Quando mi mettete in accordo, psss, primo, un nuovo progetto, se dovresti essere un'attività, quando mi guardo, se ci sono un'ora che ci sono più importanti, siate, per il punto di vista della cooperazione di ragione, ci si rende anche il comodale, che ciò di raho, e non ciò di'acchia, se togliere, i passare verso ho progetto del Più, come se volete i pensi, dove dollari, io sono tutti i pensi che ho spavuto il mondo del Più. Poi, o quale è, questo, quanto è un'occhio, e sono un'occhio, e ci voglio dire che sono un'occhio, il primo è un'occhio, Magliate la terra? Vedete? La mia esperienza è di ciare. Adesso, a domani, lezze, i quattro e i fiori, i fiori, i fiori, i fiori, i fiori, i fiori, i fiori. Giuchiamo a stare attorno a me, e anche lì, questo quattro e i fiori, se non è questo momento, si metterà, si metterà se non è il futuro, se non è meglio. Sì, e là, i fiori, i fiori, i fiori, i fiori, i fiori, ma lì, i fiori. Bvenite la terra e non giocare. Sedà a domani, center centro e c'è accorre di la cadera, a domani. eta i fiori, Grazie a tutti. 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 Grazie. No. Grazie a tutti. Grazie. Yeah. Grazie. Grazie. Yeah. Grazie. Yeah. 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Yeah. 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 Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo faccio, perché sono loro, perché non lo faccio. Non lo faccio. Mi senti? Allora, fin qui e fin qui. Allora, adesso ci chiamo. Posso fare la squadra, eh? Sì, proviamo. Allora, facciamo. Sì, mi senti. ... ... ... ... ... Sì, stai con la squadra! Sì, stai con la squadra. Non era un problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie. all'è, a che abbiamo detto, che non ti ciò che avevo fatto, che non ti ciò che hanno sovrapposto, e ciò che avevo fatto, ma non ti ciò che ho fatto, ma non è più delenche, ma non è più del malo. Non è sempre da un'ecusa, però c'è un'eserro che si è da un peggio, che è un'amera, e qui è un po' aca, ma non è più l'amera, ma non è più che il campo di fronte, ma non è più che la scopola, ma è ragazza, non è più pubblica, ma non è più pubblica, e io gli dico se tu te la passi e te la prendi così da ora non c'è problema Pronti? Prima e la parola e la lista 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 Ma ti ringrazi L indemn Withoms all'isola Extrada e la invece e se a tornare albo si si di Grazie un po' No, adesso il tempo è che è il terramato, non stai qui, dietro a gioco. Bene, vieni qua. Ci sono i bambini che parli di passoli e a giocare così, immaginate che io si amico di un piano e si è piaciuto solo. A mettersi con l'altro in mezzo e aggiungiarsi a quanto ci sono legato a me. Non ci sono i bambini, ci sono i bambini che sono andati a spiegare a facendo dei bambini sui bambini. Se prezoste al diretto a Valeria le gestione tile, ha riuscito anche a Silva, come specialmente l'av bilanci di amare che ripagini, mentre faccorte la stu dzisiaj a housesco corinto e che va lavorare inremo per rischio un denaro della mia accadiabile delle produzioni. Allora! Ioик, cosa guardi? C'è un cerchio... Scusa, c'è un cèlto, da un'espawni, da un'espawni, da un'espawni, da un'espawni. Usiamo la cosa, usiamo la torre c'è la tua gente. E te li e te li, un'espawni, un'espawni, un'espawni. C'è un'espawni, da un'espawni, da un'espawni, da un'espawni, da un'espawni, da un'espawni, un'espawni, da un'espawni, da un'espawni. E tra i dit, voi dovrei, �'espawni, s'è consul ? E tra i dit, voi dovrei, se t'èm la sua impagul汁, notre fene tu,ры tu,rey, no. E poi c'è andare a stare in toci. Ah, ah, ah! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. ... 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